Che estate sarà questa post lockdown a Sambuca? Cosa state preparando? C'è sempre una grande attenzione per le vostre iniziative, negli ultimi giorni si è preso della vostra disponibilità anche ad ospitare il centro d'Eclanton che vi siete fatti avanti. Sì, stiamo cercando di iniziare nuovamente con le attività di intrattenimento culturale durante il periodo estivo. Sabato prossimo faremo in concerto con tutti i borghi più belli d'Italia la notte romantica, quindi inviteremo le nostre attività ad esporre dei gadget che possono fare, richiamare proprio la passione romantica di ogni innamorato e quindi sarà anche questo il primo passo. Poi abbiamo in programma delle attività teatrali estive importanti, luoghi strategici particolari. Naturalmente Sambuca è un territorio che scommette, che si mette in gioco. Noi cerchiamo come amministratore di interpretare questa disponibilità, questo coraggio e invitiamo non solo i turisti di prossimità ma anche i turisti che vengono da fuori Italia, che stanno iniziando a venire, a venirci a trovare, a continuare l'investimento che hanno iniziato con le case 1 euro e a presto ci sarà un altro bando delle case 1 euro e faremo un po' quello che è nel nostro programma. Cercheremo di vendere, di valorizzare, di promuovere il nostro territorio perché penso che l'unica cosa che manca è questa. Abbiamo una ricchezza che è la nostra terra, la nostra Sicilia e noi cercheremo di promuoverla, di renderla visibile e di condividerla con chi viene da fuori. Quante saranno le case 1 euro comprese nel nuovo bando? Saranno circa come l'anno scorso 18 case. Quest'anno già il piano di alienazione è stato pronto per essere approvato in Consiglio Comunale e quest'anno sono le case a 2 euro, non sono 1 euro perché quelle 1 euro le abbiamo finite e quindi faremo in modo che chi vuole comprare casa a Sambuca almeno 2 euro le deve investire.